Pertanto la giuria all'unanimità raccomanda come Capitale Italiana della Cultura 2026 la città dell'Aquila. L'Aquila è Capitale Italiana della Cultura 2026, ce l'ha fatta questa volta il capoluogo di regione con il progetto L'Aquila Città Multiverso. Una grandissima emozione a Roma nella sede del Ministero dopo l'annuncio del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, dato davanti ai sindaci delle dieci città finaliste. Per la Regione Abruzzo era presente anche il Presidente Marco Marsilio. La giuria ha votato l'Aquila all'unanimità perché il dossier ha proposto un modello di valorizzazione del territorio, questa la motivazione, che mira il recupero dell'identità, partendo dalla cultura come volano per lo sviluppo, facendo da collante con tutti i territori circostanti, con attenzione ai giovani e con una rete che mette al centro il sistema museale, bibliotecario, universitario. Un giudizio eccellente, quindi quello dato dalla Commissione presieduta da Davide Maria Desario. Emozionatissimo il sindaco Pierluigi Biondi che non ha trattenuto le lacrime perché questo riconoscimento arriva a 15 anni dal terremoto, ma non è un risarcimento, ha detto. L'Aquila è una città che si avvia a celebrare i 15 anni del terremoto. Un evento che ci ha colpito non soltanto come istituzioni, ma a me personalmente come sindaco, ma in primis come cittadino e come rappresentante di una comunità locale che ha sofferto tantissimo. L'ho detto nel corso dell'audizione, il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura non può essere un risarcimento, perché non esiste risarcimento per quello che il nostro popolo ha sofferto, ma rappresenta sicuramente un elemento intorno a cui ricostruire il tessuto sociale della nostra comunità e delle nostre comunità. Lo abbiamo detto, la cultura non è un elemento accessorio nel percorso che stiamo facendo, è un elemento fondamentale e fondante. È il recupero dell'identità, è voglia di emancipazione, ma è anche proiezione nel futuro. Nel corso della mattinata il ministro ha raccolto l'invito della Commissione nel trovare qualche forma per premiare anche le altre città finaliste e permettere quindi a tutti di sviluppare progetti che comunque sono di grande qualità. Il progetto dell'Aquila è un vero e proprio progetto di sviluppo territoriale, che apre anche ad altre aree interne del territorio, grazie al supporto degli uffici speciali e che dialoga con il Comune di Rieti, che ha sostenuto la candidatura. Alla stesura hanno partecipato il professor Alessandro Crociata, direttore della candidatura, e il professor Pierluigi Sacco. Il titolo del dossier è stato scelto perché si vuole guardare e far guardare la città con un approccio multidisciplinare che sia in grado di mettere assieme più suggestioni, sensibilità e arti. Le altre città finaliste erano Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e Unione dei Comuni, Valdichiana Senese. Grazie a tutti.